Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con la nuova run di The Binding of Isaac qui con noi c'è sempre la nostra chiaretta Virgilio che ci accompagna sapientemente però c'è anche da dire che che le ultime due runs sono state un pò eh sì un pochetto andiamo di farne una super fregna questa volta Beh dai succede eh Ho detto prima Non tutte le ciambelle riescono col buco E Dai riproviamo Magdalene Si dà un'altra possibilità Che due palle E' proprio Magdalene quella con cui siamo andati malissimo A mentrare Che cosa Perché ho un Sembra che stai sorridendo ma sbavando allo stesso tempo Fa schifo Pietro Allora Bravissimo C'è lì c'era una bombetta E ci piace assai Testa di ca Eh vabbè ma che pare Pietro si è sacrificato per me Grazie Pietro guarda Per farmi Che? Per ringraziarti Ti riempio il cuore Prego allora Vabbè intanto entriamo Qua la stanza dorata Questo è splash damage E praticamente Quando colpisci l'avversario Con il nemico Con le lacrime Per terra Lascia gli schizzetti velenosi E fa danno Non è male Dai prendiamoci Va bene Ok Tossico Bene bene Questi camminano Quindi possiamo vedere Come fa danno Questa maledetta cosa Ok Questo cosa Madonna mia Basta Guarda 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 che tono Guarda guarda che toni Guarda cacchina solitaria qui Io spengo i fuochi intanto Sì Mezzo cuore Ce lo pichiamo Spengo il fuoco Del mio corazon Guarda 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 guard ok vabbè falli fa tutta sta gente senza testa fino a quando stanno lontani falli fa ma che c'è ma falli fa ragazzi mi sa che ce ne manca uno dove stai? in dove? ah quello piccolo stronzo ciao ma perché è così piccolo? poi è infido perché tu non lo vedi ma se ti colpisci ti fa un danno da cuore intero un danno da cuore intero gioca male sai che vorrei fare io? una bomba, là c'è la stanza segreta sicuro però qua ci sta lo scrigno va bene andiamo di scrigno dai andiamo di scrigno dai 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 ora ne troviamo un altro andiamo di qua ok abbiamo iniziato benissimo questa si chiama la run della demenza si dividono che ci sta ci sta in periodo di cacche cosa? sabaku che fa lo spirito dell'arcade noi facciamo lo spirito della demenza esatto cosa stai colpendo Pietro? non lo so stavo tentando di arrivarci senza avvicinarmi eh sì che sono molto troppo facili ma si vince già dalla run di Outlast che sono un cuore di leone voglio dire direi sì ecco piccola pubblicità interna al canale se non avete visto la run di Outlast direi che merita e per merita intendo no intendo che è una serie comica vedi? vedi qual è la differenza tra prima? che abbiamo prima sì prima abbiamo messo 100 monete dentro la mission machine e adesso ci sono più i teams all'interno del negozio e cioè bene e cioè molto bene infatti adesso noi ci prendiamo questa bomba così almeno magari riusciamo a prendere lo scrigno e ve lo prendere come minimo dentro non c'è una minchia e io un pestebio no scherzo un pestebio ah bravissimo ma però c'è una chiave e un'altra bomba quindi sì infatti va benissimo ci piace dove sarà la stanza segreta? secondo me la mezzo di qua? secondo me sì di qua tu dici qui? secondo me sì ah ci proviamo ah ci proviamo vai bravo Pietro oh che meraviglia altre due bombette fantastico che grazie bravissimo Pietro dimmi no niente ah ok e proviamo pure di qua ah no ce ne abbiamo due crepi l'avarizia niente ma esplosa anche la bomba quando fai così c'era una bomba dentro dentro al dentro al come si chiama? sì sì dentro al come si chiama? sì sì è bruttissimo via mamma mia Pietro che è schifato infatti non lo so manco io come fa ok e uno è andato eh eh vabbè ma c'è l'unico momento in cui mi sono fermato mi ha tirato una palluccia che palle mi servi vivo Pietro sei comparso sei brutto sei molto brutto e di questo adesso tirerà cose ecco qua ha fregata tutte e due ho adesso il potere che abbiamo dello splash damage vabbè ma su dello splash damage non serve assolutamente una minchia o questo perché fluttua fluttua quindi non non prenderanno dopo lo rimane per terra io mi tiro in qua ecco faccio cosa ah mi tira anche di diverse a quanto pare vero no vabbè io ci rinuncio cioè ogni volta che c'è qualcosa a schermo io la piglio ma non è possibile non l'ingazzi non l'ingazzi io questo ci dà un trinket questo non so angelic spanish vabbè non ne ho idea di cosa possa fare però vabbè andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti ok magia santa vabbè fammi rientrare sotto forma di un panda attenziono ecco qui mi c'è una tiny rock una tiny rock una tiny tiny rock bravissimo ah va bene va bene e così possiamo aprire qui che c'è qua ah mammoccio gigabyte di soldi allora un po' di soldini mammocetto mammocetto proviamo a buttarci un soldino ah oh che culo ok un altro chiavi eh mamma mia ragazzi che fortuna eh cuoricino dai dai questo non sarebbe male in effetti niente mi pareva quando ci serve qualcosa vabbè mi hai rotto le palle ciao muori così ah pillola qualcosa di malissimo ciao oh fantastico adesso mi ribibbo tutti i cuori oh ti ribibbi lo zibibbo oh attento attento attentissimo brutti bravi oh pure le moschette mamma mia ragazzi mamma mia perché quelle facce brutte quelli pochi quelle facce brutte quelle co li ha oh ora se mi prendeva eh oh oh non mi prenderete non mi avrete mai vivo ma sardo muori e che mamma mia ragazzi è qua il macello qua il macello cercate di morire il prima possibile grazie non parlo con te Pietro ah che cacca ho dato mali range delle mie lacrime allora molto niente qua ci sta un sacco di roba sotto sopra di lato vabbè andiamo di qua questo che romperà mi ha preso di sfriscia parasol oh questa this down grazie benissimo spariamo più lentamente ci mancava mi ribibberesti un pochetto così mi ribibberesti un pochetto cuoricini pronto 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 un sacco di tempo non facevo proto vabbè parte questo manca la stanzetta ah qua c'era una monetina guarda tu non l'avevi vittuta occhio è brutto sei molto brutto vai a uccidere quello ok andiamo qui niente oh che cazzo sono questi cose orribili sono i gridini gridini che gridini che gridini ah questo questo è sempre un oggetto attivo praticamente ti usa le monetine e faranno gli altri nemici ma ci piace di più lo spawna fuori eh sì un pochetto sì direi allora iniziamo da una parte e finiamo da quell'altra questo è imploso in mille moschili gigabyte di moschie perfetto ma ancora cuore è la miseria andiamo a vedere cosa c'è nel negozio allora lì c'è il saldi di steam che hanno reso povere un sacco di persone in questi giorni ma tipo un sacco veramente ma tantissime ok tu muori subito grazie molto gentile mi hai fatto questa cortesia tu pure però non abbiamo abbastanza soldini per prenderlo quindi mo ci aspettiamo eh ci tocca è la stessa situazione di me con i saldi di steam che non c'è abbastanza soldi per poterli spendere esattamente non ho soldi per i saldi di steam basta soldi per i saldi soldi per i saldi famoso gioco di parco guarda è su sei un po' testa di minchia giusto un li riaccendo ma ti fai dannola solo per favore danneggiati da solo si è che sei talmente tanto stupido sto cacchio di coso che si guarda guarda tu no ma che siamo noi a quanto pare invece è molto efficiente e pericoloso no no è che siamo un po' pippe noi sia con i danni che con con le lacrime con tutto bravissimo vedi che si fa da una sola è fatto con satana molto bene molto e andiamo a vedere cosa c'è di bello allora qui è il mammocetto che che lancia le moschine ci piace ma si dai va 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 rotten baby ok ci piace ci piace si si io sono ancora il panda della discutibile attrattiva diciamo è carino si si course of the lost molto bene grazie andiamo qui vediamo cosa c'è questo eh eh si però praticamente è come non avessimo fatto niente abbiamo preso mezzo cuore wow che sei stronzo ecco adesso ecco non avessimo fatto niente la nostra abilità è leggendaria justice quella è la carta justice che ti dà è come se fosse il box of stuff praticamente ti dà un po' di cose bello 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 moschette brutte moschette vermini brutti schifi del ca dello ski della me eh come ok ok mamma mia gigabyte di chiavi oh gente brutta senza testa mamma mia dai su ok ricordiamoci che di là non ci siamo andati eh dove eh già mi sono scordato ah 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 va bene va bene eh lo so guarda capisco che il mio contributo sia essenziale in tutto questo però io eh ma quando cazzo morite ti ribibbo ti ribibbo dai un pochetto ti zibibbo su madonna guarda i cosi ciccioni là i pipistralli ciccioni mi stanno proprio sul ca mmm 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 ma su quanto siete brutti mamma mia allora tenta quello quello scoppia e fa le co eh quello scoppia che fa le eh fa le eh 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 ma questi non muoiono eh ah questi si disattivano ok ok help from above mi sembra secondo me lì c'è la stanza segreta eh ma io non ci spreco le bome siamo al cosa course of the lost vedi questo è fanta ah ma comunque sono abbastanza sicuro che lì ci sia la stanza segreta ma sei sicuro io ci proverei avverai mi fido che copa dai sto sto macello per una cacchia di chiave per una chiave per una carta ok oh dio che infame che sei sei proprio infame mmm cos'è io la sprecherei più qua si 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 wow 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 abbiamo preso steven damage up damage up damage up facciamo i danni 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 incredibili ciao muori wow tanta bruttezza wow mamma mia io quello dietro mica l'avevo visto non si sa come non mi ha preso oh ok anche basta ok meglio questo questa carta qui o shot ai nemici o comunque gli toglie un sacco di eh sì ancora ok sì sai perché non sono convinta Pietro perché di perché siamo abbastanza lontani dalla stanza del boss mamma mia ragazzi cosa ho schivato perfetto che una volta trovata che una volta trovata vedi di solito sta vicino alla stanza del boss e in mezzo a due stanze ma quanto ci abbiamo di danno adesso? adesso abbiamo 5,19 quindi è molto buono oh questo anche è molto utile è una sanguisuga come quelle lì che rompono le palle a noi solo che fa danno ai nemici e ci ci riempie i cuori rossi wow quindi dai che è abbastanza bilanciata oggi che figheria oh oh figheria l'antica figheria del corso questa è wow vieni masterda ok ok persone brutte in fiamme guarda vedi come si vaggano quelli in mezzo ai fuochi li fanno con la sa guarda non ce ne frega è proprio una mi una mi? una mi oh dai però che ansia guarda quando ci metti questo verbo che fastico grazie grazie Isaac vabbè Raiemo va oh eh vabbè dai gigabyte di cuori eh sì soldi cuori va benissimo così almeno se troviamo il negozio possiamo sperperare e se sono se sono cretino posso ancora vivere possiamo sperperare un po' di denaro oh oh già senti tu tu vuoi fare qualcosa non parlo tu a parte prendere la no dicevo la sanguisughina tiepie un regalo no grazie no grazie vabbè l'unico ah vabbè facciamo discretamente male negozio negozio cos'è quel cornetto rosso allora questo qui ci aumenta il danno però ci aumenta la possibilità di trovare i champions ah giusto è un po' così siamo un po' di soldini ma bushmai meno 4 vai qui altri ce li teniamo nel caso in cui trovassimo qualcosina di più interessante tardi questa che cacchio era? ah no meglio qui esatto hai visto come ci ha servita la carta? oh guarda come muore bene il rossetto molto bene si si va benissimo guarda guardala che roba ok ah vabbè dai allora devo dire che finora eh poi magari eh il disastro però niente quella è chiusa vabbè orca orca via 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 ah che ansia guarda appena entri che ti trovi ste cose e te non male allora ma cominciamo da uno va lasci uno per uno non va a nessuno via oh sono duri eh sti cazzi si si hanno un sacco di di punti vita farire questa cosa però comunque vedi splash hai urlato qualcosa in francese tipo si 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 comunque vedi quanti danni fa lo splash damage cioè è molto utile quando ci stanno nemici a terra è fantastico ecco certo però lo danno come una testa di minghia cioè ha fatto danno a te e non a me eh si perché mi sono distratta il mondo sta cambiando sta qua che mi sono distratta tratta oh gigabyte di porte ma ci va oppa allora io mi faccio danno è servito vabbè quella monetina la possiamo pure pisciare beh si quella ah è qua che siamo mezzo cuore ciao oh bella così almeno siamo precisi oh andiamo a vedere se c'è qualcosa niente e te e vabbè ma cioè mi sono spuntati tutti sotto l'ano eh si 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 dai tranquillo che rientra cioè ci abbiamo c'è del male ci dai qualche batteria qualcosa testa di minghia ti faccio esplodere ti faccio esplodere bravissimo vabbè ti ha ridato i soldi che culo bra 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 allora avanti dove vai non lo so vieni qui con la sciarpetta no questi no che merda ci mettiamo qui lasciamo che quello gli lanci le moschette ok andiamo a vedere di su di su di su non voglio uccidere subito ah no non è servito a niente tu sei brutto bruttissimo sarei dire che ansia su donna sto coso che mi segue metterà in goccia vabbè sono riuscito a beccarlo in faccia dai da fessi niente poi rimanere anche possono rimanere anche lì un tipo il giorno orgia di ciccioni eh sì non dici ficcare in mezzo che lo so che c'è questa attitudine a ficcarmi in mezzo ai ciccioni sì come la scorsa puntata eh sì sì ok cuori niente oh soldi appalate vagonate di soldi ah questo è bello questo è bello questa è bella perché guarda qua c'hai il range al massimo adesso e io non li ho ah ecco ancora range up telepils dove ci porta grazie grazie Isaac grazie mille vai ok vado sono un piangente ok oh bella meno male non so cosa sto sparando ok questa sotto allora se ti apri subito mi fai una cazza di cortesia molto uh questo è fantastico uno più uno free forever quindi ogni volta che troviamo una monetina ce n'era sempre due cuori sempre due bombe sempre due chiavi sempre due cioè bene io comprerei una bomba perché ci abbiamo una sola ma perché tanto noi ci abbiamo sta cosa che in teoria te le spavano vabbè se la vuoi comprare la compriamo dai questo fatto lo vale come il regalo di natale la bomba la bomba mamma che puoi prendere la bomba ecco guarda guarda vedi tieni 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 brutti ok quando ci piace sono tra più inquietanti di tutti vedi vedi mannaggia la morte se volassimo io potrei prendere quel cuoricino ma non posso che non si vola queste parti questi sono stronti io i ossi eh vabbè te lo dicessi vabbè reto boss oh allora moschini brutti ma io non ho parole vabbè io ogni volta che c'è qualcosa a schermo mi arriva in faccia non capisco ma vedi eh ho detto qua è morto ho detto qua è morto è morto ok ah e ci piace anche quindi siamo a 5,60 i damage che mi sembra buono ma si dai va abbastanza bene però non è abbastanza io non mi accontento con soft maze va benissimo va bene così l'aspetto lo cambiamo diventiamo un po' più carini eh sì che bellezza eh così incazzatissimi poi poi che ci dai che ci dai telepills ma non ce ne frega proprio una minghia mamma mia ma con quelli ti puoi spostare tranquillamente di lato e colpirli attento che così vanno il giro sì comunque puoi rientrare lo trovo un sacco di dove cacchio sto che infamezza proprio che infamità oh non te ne andare troppo affratte eh non ti vedo uccidiamo quello per carità di dio sono un arbitro adesso sei un arbitro sì un commesso della footlocker eh già sì la footlocker sono un arbitro triste sono un arbitro triste allora veniamo qua su ecco concentrazione 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 fantastico ok stanza vuota oh ci eravamo già sta oddio mo comincia io odio questo che dio ti fulmini al che cazzo sti fuochi maledetti mi ero a scordare che stavano pure qua sotto che cos'è quella cosa non lo sai no questo continua andando a sparare al nulla già da un po' possiamo controllare quella è un trinket ma non so bene cosa sia scusate quindi i consulenzi i consulenzi la consulenza allora questo che era ah ok questo qui niente quello che abbiamo preso prima non serviva assolutamente a niente la piuma perché era un item che ci servirà poi perché poi dopo ve lo spiegherò quando capirà è aggiornata l'app si oh perfetto praticamente questo trinket dovrebbe riempire il l'itim attivo praticamente il cuoricino ogni volta che si entra in una boss fight perciò potrebbe essere molto 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 utile poi adesso scopriremo se è vero oppure no perché sai com'è verici ma come hai fatto a prenderlo non lo so attento su quali cazzo che stanno ok grazie monetina pi cos'è quello allora quello che sta in mezzo ti attira semplicemente al centro verso di lui ok però non mi fa niente campo gravitazionale vedi va bene tutto chiaro tutto chiaro ok molto bene andiamo di qua ciao proprio oddio no quello no nessun colpo è andato bene tiny rock molto bene grazie ci piace stava a fare una stronzata stava a passare sopra gli spuntoni come una rincoglionita no no qua prendo danno sicuro io eh troppo lenta so dio che stronzo questi scoppiano meno male guarda qua ma come mi sono zaccata qua io molto bene che ansia si ho capito perché io mi aspetto di entrare in una stanza e tu mi mandierai un'altra parte vabbè andiamo di qua vediamo se mi fa andare di qua più che altro oh grazie tu c'è allora questo è ogni volta che prenderò danno lascerò una 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 striscia una una scia di sangue tossico che farà danno ai nemici quelli brutti quelli bruttissimi quelli che ci hanno fatto morire di odio fortissimo grazie molto utile vabbè figata wow allora attento che quello nero qua non ci possono arrivare no lì no ok ok andiamo a vedere il negozio spendiamo questi quadri ah no grido no vabbè ah si vabbè ma io voglio spendere i soldi però una volta che ce li ho li voglio spendere niente minchia ok cacchio 54 monete mica ma dalla strada devo rifare ok boss si ah questo non l'abbiamo visto mai attenzione ecco qua perfetto brava che era brava che era fantastico par favore muori ma che cazzo mica l'avevo visto quel quel porca questo è terribile dentro la stanza così piccola è terribile è terribile io rimango qua in un anno i danni incredibili cioè ah damage range up bene almeno la gioia santo cielo hp up non mi dispiacerebbe oppure gigabyte di soul art fammi un po' vedere oh dimmi che ci sta i cuori incredibili ma c'è ah e basta tipo che bello tu dici ti incazzi con una bestia certo che ti incazzi me sto incazzando allora adesso siamo al piano della signorina mamma oddio te prego e dammi e dammi una gioia un full health per esempio i can see forever le pills non ce le frega i can see forever non ce le frega d'altra volta questo che è makes you larger grazie così almeno siamo ancora più grossi e ci vediamo ancora lì più perfetto e più ancora più grande oh fantastico allora adesso le bombe non ce ne abbiamo ma abbiamo le monete andiamo sotto andiamo sotto bravissimo bravissimo molto bene questa cosa cacchio quella è praticamente salute per monete ma noi non ci c'è proprio ah la salute non ve la la serie no oh india mamma mia sei anni di vita bababia proprio vabbè su niente vieni 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 bello del babbo niente qua beh sì sei un untore che cazzo sei no no cioè quello l'ha schivato non so beh lo so pure questi sono quelli bruttissimi che corrono e diventano altri cacchiette brutte oh ca oh quanti cacchio di soldi incredibili infatti però senza negozio sani ma qui bing vieni io ci ho provato no le chiavi che cazzo eh quello lo voglio però che c'è che c'è vai vai oh no dai però ma dai ma guarda che odio vedi come lasci la scina di sangue tossico quando sei carino eh sì questo ci piace questo ci piace questo ci piace ah sono che le lacrime quelle ricerca esatto ah sì 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 a me non mi sembra ah la wikipedia ricerca scusate è giusto giusto quello voglio anche un po' morire dentro adesso però eh ciao 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 come earth down che coglioni ti prendesse un colpo a parte che lo sai che sono stata stupidissima io che noi abbiamo I can see forever quindi le stanze segrete le possiamo vedere vedi eh siamo proprio dei coglioni anzi sono proprio una coglione perché ho spiegato una bomba sì vabbè ho capito ma non vi baggate io stavo per andare sopra gli spuntoni con una testa di Maggie eccolo qua vedi zicchete tanto facile eh allora mo ah niente non possiamo fare niente perché non abbiamo le bombe possiamo oh no vabbè dai ah qua ah scusa vabbè speriamo in un negocio qualcosa del genere ah sì dai ma sì guarda ci sta pure un coso come si chiama sta pure un Natale nel rock guarda guarda come si bacca il verbino stupido e ne avanti ne ho lì qua zazzara zazzara ma è una gioia una volta che ci abbiamo cos'è la batteria sembra un altro trinket ma non ci serve a più tanto ah mi piace comunque sono un gazzo di genio io cosa sono entrata dentro la sacrifice room quella lì dalla parte dove ci faceva danno invece potevamo entrare dalla stanza segreta un vottuto genio te vabbè io che cosa sono sono un essere molto discutibile non ne ho idea chiave ok che cos'è quello zaino cioè sto vedendo cose che non ho mai visto scusate allora 5 per il per il soul art sicuramente perché sì ok sì a voglia abbiamo un sacco di soldi ma voglio essere sicura di quello che possa essere quello zaino perché non l'ho mai vista roba di zaini non l'hai mai visto? no non mi è mai capitato fino ad ora zaino eccolo qui perché ce ne sono due sembra davvero questo ti danno la possibilità di avere due due item attivi davvero? diamo un vush mai un vush mai e prendiamo due item attivi? sì davvero? sì e come si usano poi? cioè si usano insieme tipo sinceramente lo scopriremo solo vivendo visto che è la prima volta che è successo? hai detto solo vivendo e io non lo scoprirò dai dai è la possibility di rentare la possibility ma vabbè ma non basta non ho scogliato adesso triste tristissimo un cervello che cammina in tutto questo però la bomba non l'abbiamo trovata la bomba bomba vabbè niente eh ci tocca mamma ah nella stanza con un gigabyte di rocce poi è figo ma sempre ci stanno le rocce ah sì? sì sì non ho realizzato ma beh senti io concentrali concentrali ho capito tutti i maschi del pianeta il seme io il sangue così vabbè perlomeno adesso Dio ah vabbè adesso magari ehi ci provastro sono l'errore 404 adesso bellissimo ma sploti percaddi G c'è la palla c'è non posso manco tornare indietro no oh oh bene grazie a Dio andiamo avanti perché vuole tornare indietro a riprendere tutti i cuori che giustamente ho tralasciato questo è il cuore di mamma uombe xl quindi ci abbiamo no non è vero non ci abbiamo le stanze del tesoro perché le stanze del tesoro non ci sono 404 404 ah e diventano tutte cacchine eh sarà meglio quanto quanto è testa di cazzo sto gioco guarda è un pochetto io tu quindi attento eh attenzione che questi quando scoppiano esplotono esatto le pallucce c'hanno le palle fanno le palle quando esplodono c'hanno oh ok vedi di qua di qua di qua eh eh che scimmato figlio che cosa sono quelli ma che è sta roba ma perché non l'ho mai vista ah tranquillo anch'io non l'avevo mai vista sono un rispettore gadget no no sono una specie di impiegato delle poste si che cosa brutta è ma addio ti vulmini proprio dai muori però addio eh abbiamo le bombe se non altro o a ai temattivi zero eh eh proprio figurati noi siamo maina maina gioia guarda sarà un traguardo riuscire attenzione sarà un traguardo riuscire a sconfiggere il cuore di mamma perché così almeno metteremo un mark anche al post-it di Magdalene e perlomeno sbloccheremo un qualcos'altro guarda ma morite male dai guarda tu se quello allora qua niente a vedere se ci sta qua che non c'è un cazzo eh sì eh sì eh sì era meglio se lo facevi quando dopo tanto se muori ti basta un colpo a te ah bene ormai danno pieno no cosa non ne vale la pena provarci perché dentro potrebbe anche non esserci nulla e potremmo morire mio figlio poteva morire aspetta mi sono dovuto allontare vabbè dai attento ecco qua vabbè adesso puoi sbram esatto ok continuo a prendere monetina anche se essenzialmente non servono per nulla ma oh ecco qui mini boss rottura le palle va arie che arriva ad un certo punto mi distraggo vabbè di nuovo in festa riprendiamo il cuore e andiamo avanti ah gigastanza si vabbè che cos'è quella cosa cosa sono tre cosciotti fusi insieme ammassi di carne robe strane Isaac è sempre così così blando e tranquillo proprio un gioco per famiglie oh questo è carino dice shard ci permette di cambiare di cambiare come si dice di cambiare magari che ne so l'item che ti spona una stanza per dirti eh sarà utile spero guarda guarda tu guarda tu guarda tu che mo bestemmia ecco qua ok wow cervelli brutti questi si dividono in in cervelletti e in questo caso che muoiono male si si oh guarda andiamo direttamente al boss perché proprio io li odio un sacco questi sai eh si sono abbastanza spaccamiglia si oh questo è questo come farire questo perfetto dove sono attento questo muova in in berserk allora la cosa positiva esatto è che ci da quando c'è la modalità excel uh 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 ma così perfetto io ho paura di rientrare no vabbè dai posso effettivamente che se può dai dai ok no 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 quelli brutti no vabbè mi sto fermo dai lascio fare a te vediamo racconti semplice sì mi esplode il mio di cuore però svecco no mamma mia ragazzi per un pelo per un pelo per un pelo mannaggia mannaggia è stato difficilissimo minnaggia botte 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 un po' me lo sentivo perché sei rimasta sola con veramente troppa pochissima vita ebbè c'ho un cuoricino solo mi dispiace vabbè però però è andata benissimo abbiamo sbloccato qualcosa? assolutamente no sbloccato non ricordo non credo però sbloccato no però abbiamo visto cose nuove trinchette nuovi nemici che non avevo mai visto in tutta la mia vita i teams nuovi abbiamo qualcosa di nuovo l'abbiamo visto però molto bene allora ragazzi quindi finisce qua tutto sommato è andata bene sì un po' tristemente perché proprio il cuore di mamma volevo sconfiggerlo però vabbè guarda e poi gli mancava uno sputo proprio eh lo so a volte succede va bene ragazzi dai per oggi è tutto noi ci vediamo la prossima maina gioia la prossima settimana con un'altra run un caro saluto da tutti noi mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto certo e lasciate un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa goliardica serie di run di The Binding of Isaac sto perdendo anni di vita comunque però va bene ragazzi bella per tutti ciao 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 iscrivetevi al canale